Si lavora al rione inglese, si lavora ormai senza soluzione di continuità, con i volontari che anche nel periodo estivo preparano tutto ciò che serve per allestire l'ormai tradizionale presepe che da molti anni allieta il Natale dei cittadini di Bagnara e non solo. Da un'edizione all'altra Massimiliano Grillo, che guida un gruppo di giovani che amano l'arte presepiale, non smette mai di affinare e migliorare quello che ormai si presenta come uno dei più bei presepi della provincia reggina. Qua siamo i preparativi, come hai detto tu, nel presepe 2016-2017. Siamo ormai chi ci conosce da parecchi anni, siamo un'associazione che lavoriamo tutto l'anno per essere pronti ogni anno a fare la scenografia del presepe artigianale. Alla maggior parte della Costa Regina, Bagnara, Scilla, Palmi, c'è un po' tutti che vengono a trovarci ogni anno ed è bello vedere i ragazzi anche delle scuole portare, essere contenti soprattutto alla realizzazione che ogni anno andremo a fare. Come vedi siamo un paio di persone, questa tradizione, chiamiamola tradizione, è portata soprattutto da essere uniti e dare alle persone con il nostro presepe, dare un simbolo di pace e di amore. Cerchiamo di far sorridere i bambini, essere uniti le famiglie da questi piccoli segni. Siamo quasi pronti a finire dei nostri lavori, se tutto va bene siamo agli sgoccioli, dopo la festa del rosario iniziamo con la carpenteria, poi piano piano andiamo avanti a arrivare ai finimenti. Siamo pronti a essere di nuovo attivi anche per quest'anno per far venire la gente che noi il presepe è un segno che portiamo nel nostro paese e per essere sempre uniti, avere pace e serenità per tutto il paese di Bagnara e per chi viene da fuori. Da parte mia che sono il presidente, ma da parte di tutta l'associazione e dei ragazzi che mettono anima e cuore ogni anno, che ringrazio tutti coloro che danno spirito e amore per dar sì che questo presepe venga sempre più bello. Non mancherà l'elettronica, i pastori in movimento e gli scenari tanto cari ai ragazzi dell'associazione che per più di un mese attraverso il presepe animeranno il quartiere con attività ed iniziative per bambini ed adulti. Appuntamento quindi ai primi di dicembre al Rione Inglese per l'inaugurazione del presepe artistico-meccanico e per dare sostegno all'associazione di volontariato che con grande cura dei particolari si appresta a presentare un'opera caratteristica ed unica.